Siamo sul Naviglio Pavese, questa è la conchetta che hanno aperto il mio onore per farmi passare tutto da solo con la mia tavola da SAP, con la bicicletta Brompton sopra e da qui siamo arrivati pagaiando fino a Pavia, ogni tanto siamo dovuti uscire per dei ponti a raso, per delle conchie che ancora non funzionano. Grazie per la visione!